Non abbiamo avuto alcuna risposta alle nostre istanze e questo è inaccettabile. Inizia così un comunicato congiunto delle organizzazioni sindacali CGL, CISL e UIL sul caso degli agenti di polizia penitenziaria di Arezzo che saranno trasferiti due unità temporaneamente a Siena. Il nostro, leggiamo nel comunicato, è un compito delicato di fondamentale importanza per l'ordine pubblico e l'intera società e per questo, responsabilmente, non incrociamo le braccia e non interrompiamo il servizio. I turni di 6-9 ore consecutivi a cui siamo sottoposti sono ormai eccessivamente gravosi, soprattutto considerato il carico psicofisico che richiede il nostro lavoro. Oltre a questo, l'amministrazione prosegue nei sindacati, scavalcando gli adempimenti in materia sindacale, ha imposto un provvedimento che obbliga i dipendenti a turno e al bisogno a spostarsi nella struttura di Siena per una settimana. Al fine di far fronte alla carenza di personale, senza tener conto, così facendo, che si sottopone gli agenti ad un carico insostenibile, danneggiando nel contempo l'andamento della struttura di Arezzo. In risposta all'apertura dello stato di agitazione dello scorso 14 febbraio, il provveditorato ha congelato e differito a data da destinarsi ferie e riposi programmati. Ci vediamo costretti, scrivono ancora i tre sindacati, a dimostrare il nostro profondo disaccordo e disappunto disertando la mensa, un gesto mortificante che speriamo induca l'amministrazione finalmente al confronto costruttivo con le rappresentanze del personale.